Ciao a tutti amici e bentrovati in questo nuovissimo video, si parla di gossip, stavolta grande fratalo VIP, edizione numero 7, dove in evidenza troviamo Jaele Detonà, perché su di lei c'è un bel retroscena. E a sganciare questa news è Demi Buono, che nel corso di un'intervista a Casa People aveva rivelato di essere stata molto, molto, ma molto intima proprio con Jaele. Allora nel racconto ha detto, io e Sofia eravamo molto tra virgolette degli amanti, perché ogni volta che stavamo insieme scattava qualcosa di passionale, nonostante fossimo entrambe fidanzate. Era una relazione più la nostra, anche perché noi ci capivamo subito al volo, a vicenda, e siamo molto simili caratterialmente sotto certi aspetti. La relazione tra me e Sofia era nascosta, diciamo, perché? Perché Brad sapeva che noi eravamo amiche. Poi c'è stato un confronto tra me e Mattias, il fratello di Sofia, e allora Brad Forbeck non ha mai voluto parlare con me. Anzi, devo dire la verità, mi bloccava ovunque, anche su WhatsApp. Il fratello aveva un confronto con me, io però ero in Indonesia e non sono potuto andare nella città di Milano. Quando ho cercato un confronto, lui poi è sparito, non mi ha più risposto. Tramite un messaggio, Mattias mi ha detto che Brad era molto arrabbiato con me e non mi ha spiegato proprio il motivo. Ma penso sia questo il motivo, che sono finita sotto le coperte con la moglie, e questo è un gran motivone. E sempre nella stessa intervista, amici, ha rivelato un presunto retroscena sull'avventura di Jaele al grande fratello Vip, dicendo, non l'ho vista super naturale in casa, forse a volte si mantiene, però comunque il rapporto tra lei e il marito è proprio così. Nel senso, lei se ne frega, va con chiunque e idem fa lui. Infatti, quando ieri hanno detto che lui era a cena con altre donne, non l'ho vista molto scandalizzata, perché effettivamente è la normalità tra loro. Io lo apprezzo il loro rapporto, a parer mio, lei è partita molto convinta. È entrata con la mentalità di fare la guerra, ed era carica, super carica. Con il passare del tempo è tornata un po' più se stessa, piano piano. Adesso si sta trattenendo, anche perché, almeno secondo me, nonostante il loro rapporto, lei sa che si espone ancora così tanto e che potrebbe perdere il marito. Perché comunque un po' di gelosia da parte di Brad c'è sempre stata. Era lei la persona con la mentalità un po' più libera. All'interno della casa le potrebbe piacere qualcuno, ma non se lo porterebbe all'esterno, questo no. Forse Antonino Spinalbese esteticamente e caratterialmente potrebbe fare al caso suo, ma l'ho vista molto trattenuta. Fuori, non so se l'avrebbe guardato, perché a lei piacciono gli uomini adulti. E con questa dichiarazione sicuramente mette in chiaro moltissime cose. Quindi, per ora è tutto, noi ci sentiremo alla prossima notizia utile. Mi raccomando, vi aspetto per un prossimo video. Rimanete informati su Pausa Caffè per una prossima volta. Rimanete informati su Pausa Caffè per una prossima notizia utile.